Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi un video haul di vestiti, ieri siamo andati a fare shopping per la scuola, quindi scarpe che porteranno a scuola, che metteranno per andare a scuola, che sfrutteranno il primo giorno, mi piace che vanno con dei vestiti nuovi e poi li utilizzeranno anche tutto il resto dell'anno, visto che ci sono i saldi ne ho approfittato, abbiamo preso scarpe, vestiti, ciabatte per Gabriele e niente, quindi partiamo subito e ve li faremo vedere, sia così che indossati. Partiamo subito con le ciabattine per Gabriele, le ha scelte lui nere delle Crocs che fanno una puzza di plastica pazzesca, abbiamo dovuto prendere il numero 38, uno perché gli sono cresciuti i piedi, le ciabatte che aveva, le stanno piccole, due perché le ha distrutte e quindi è venuto a comprare le nuove. Abbiamo preso questi stivaletti corti, così bassi, qua hanno i brillantini davanti e ce le hanno anche tutti dietro così e qua sono un po' glitterati e sono un 30 e sono per Giada, qua li vedete indossati da Giada come sono e sono veramente molto carini, ah scusate non vi ho detto il prezzo, ma è scritto sulla scatola giusto, le ciabatte, non lo so perché si è staccato il cordoncino ma tipo 5 euro e 90 penso, invece questi stivaletti 11 euro e 45 erano in offerta al 50% e prima stavano appunto a 22 euro e 90. Poi sempre per Giada queste scarpe da ginnastica fatte così blu, dentro sono rosa, abbiamo preso di queste invece un 31 perché sennò le stavano strette, anche queste qui erano in saldo, le abbiamo pagate 12 euro e 53 con lo sconto del 30% prima stavano a 17 euro e 90 e quindi va bene. Poi passiamo a Sabrina, come scarpe le abbiamo preso, queste scarpe da ginnastica così sono sul viola e rosa, hanno dei cuoricini lateralmente, dentro sono rosa, abbiamo preso un 32 e hanno appunto uno strappo qui e poi queste stringhette ma sono finte perché sono agganciate, questi sempre era tutto in saldo, 13 euro e 23 c'era lo sconto del 30% stavano se no a 18 euro e 90, qui le vedete indossate da Sabrina e poi sempre per Sabrina, li ho preso questi, li abbiamo preso, vabbè abbiamo preso questi stivaletti corti, dovrò ancora prendere poi gli stivali quelli alti, ma aspetto perché tanto per adesso ancora non servono, questi sono molto leggeri, abbiamo preso un 32, sono così con le stringhe e la cerniera di lato, sono veramente molto calini con questo pelucino, questi stavano al 50% 9,95 euro, li abbiamo pagati e costavano originariamente 19,90 euro e qui di lato sempre li vedete indossati da Sabrina, adesso come scarpe, come calzature abbiamo finito, passiamo ai vestiti, allora iniziamo subito da Giada, ha preso un completino così, con questa maglia, con questo gattino, con tutti i brillantini sopra le paillettes Queen, questo qui abbiamo pagato 9,73 euro, era in offerta al 30%, costava 13,90 euro, la maglia è così, a manica lunga, leggera, e poi c'è questi leggings con la scritta qui in fondo, con scritto, ok, brava Giada, e allora studi quando vai a scuola, e niente quindi lei ha scelto questo completino da mettere il primo giorno di scuola, allora poi passiamo a Manuel, Manuel per il primo giorno, vabbè poi anche per gli artigiani si è scelto questi jeans, fatti così, sempre qui di lato li vedrete indossati, e erano in offerta 13,95 euro, con lo sconto del 30%, prima stavano a 19,90 euro, e comunque di parte di sarei provati, mi piacevano, quindi va bene, insieme ha scelto questa maglia, questa maglietta Queen, fatta così, è una 2XL, perché ha detto che la voleva più larga, era in offerta 7,63 euro, con lo sconto del 30%, prima stava a 10,90 euro, veramente molto carino, mi è piaciuta anche a me, poi per Sabrina invece abbiamo preso questo grembiolino, cioè si è scelta questo grembiolino, cioè in realtà non è che c'erano moltissime fantasie, ma questo grembiolino Queen, qua a lato sulla tasca, ha una bambolina dei capelli biondi, abbiamo preso, anche lei l'ha misurato, le andava bene, un 85, e questo qui non era in offerta, costano sempre 9,90 euro, e allora ne hanno preso uno per il primo giorno, così ce l'ha anche lei nuovo, poi passiamo Gabriele, Gabriele si è preso una tuta, formata da 3 pezzi, abbiamo preso 12 anni, era sulla maglia, questi qua sono i pantaloni, eccoli, infatti così, con questa scritta qui a sinistra, qua a lato la vedrete sempre indossata da Gabriele, e niente, con scritto Jest, Super Sport, blu, molto carina, adesso vi faccio vedere gli altri due pezzi, ok, qui c'è la maglia, c'è una maglia con le maniche lunghe, leggera, che però io gli ho detto che può anche abbinarla con eventualmente un jeans, quindi ha preso questa qui fatta così, con questa scritta sempre come i pantaloni, e poi c'è anche, ecco, qui c'è la felpa con il cappuccio, la cerniera, così anche qua c'è scritto Jest, ora vi dirò questa tuta, ecco qua il prezzo, e abbiamo pagata 13,23 euro, c'era lo sconto del 30%, prima costava 18,90 euro, comunque per tre pezzi non è niente niente male, è una bella tuta, anche questa qua la può mettere, oltre che il primo giorno, perché diciamo che al mattino farà un po' più freddo, però poi, se continuano così le giornate, poi passiamo a Sabrina, Sabrina ha scelto un completo simile a quello di Giada, pantaloni e maglia, i pantaloni sono questi qui, neri, con questa scritta sulla gamba sinistra, Everting, veramente molto belle, abbiamo preso 10 anni, e niente, adesso vi faccio vedere la maglia, che è felicissima della maglia, ecco qui la maglia, con questo unicorno, con le paillettes, anche sulla maglia c'è scritto appunto Everything, è veramente molto bella, c'era la strada di capire che sconava, e questa qui l'abbiamo pagata 9,03 euro, con lo sconto del 30%, prima stava a 12,90 euro, pantaloni e maglia, sempre, poi per me mi sono presa solo due cose, allora, questi pantaloni rosa, fatti così un po' larghi, molto molto leggeri, da usare qui così in fine stagione, sono fatti così, in fondo sono più stretti, mi vanno bene, sono belli morbidi, non mi stringono, hanno anche i stringhini qui, le stringhette, in offerta stavano 8,33 euro, con sconto del 30%, prima costavano 11,90 euro, mi sono presa se lo porti, perché sono più larga che lunga, poi, Giorgia per il primo giorno si è scelta questi pantaloni neri, fatti così, adesso qui in fondo sono messi un po' male, aspettate il sistema, può farci i risvolti oppure tenerli così lunghi, anche lei li ha provati, ha detto che comunque le piacciono, questi qui in offerta a 10,43 euro, sconto del 30%, stavano a 14,90 euro, vedrete comunque sempre qui indossati, ecco questi pantaloni, e poi da abbinarci assieme, ha scelto questa maglia, che sembra una semplice maglia tutta quanta nera, che era in offerta a 7,45 euro, con lo sconto del 50%, prima veniva a 14,90 euro, ma poi in realtà dietro è fatta così, alle ali fatte con le paillettes, molto molto carina, infatti mi è piaciuta da un sacco, Gabriele si è scelto questa maglietta qui, della NASA, una taglia M, secondo me lì stava grandissima, però vogliono le magliette che li stanno più larghe, costava, erano offerta 5,45 euro, con lo sconto del 50%, prima stavano 10 euro, stava 10,90 euro, molto carina, fatta così, con la bandiera dell'America, giusto? E niente, quindi ha scelto questa maglietta. sempre Gabriele, si è scelto questi pantaloni, abbiamo preso taglia 14, questi jeans, fatti così strappati, la marca così è Bimbo Style, e niente, se li hai provati, li andavano bene, comunque poi appliceremo sempre una cintura per essere sicuri, in modo che non li perdono, più piatto li userà per uscire, perché poi per la scuola sono molto molto più comode le tute. Poi ho preso anche qualche cosina per Pia, che però anche questo qui non era in saldo, però le servivano un po' di pantaloni, poverina, quindi ne ho preso tutte e due sfatti uguali, cambia solamente la taglia, questi qui sono 24 mesi, li ho pagati 5,90 euro, quindi li metterà un po' più in là, mentre invece adesso le ho preso 12 mesi, così anche se le stanno leggermente più corti, tipo 3 quarti, fa ancora caldo e vanno bene lo stesso, sempre 5,90 euro. Qui l'abbiamo presa per Maurizio, la scelte Emanuele, o è tu a mano? No, adesso qui è del papà. Ok, è del papà. Abbiamo scelto questa qui, c'è a mano è la scelta, fatta così con queste cerniere, taschina fatta così, fatta un po' diversa, anche qua un'altra taschina, nera, con queste bande grigie, le scritte bianche, molto amato, carina, semplice, per Maurizio, così almeno delle magliette carine quando usciamo, sia adesso che anche comunque quando fa un po' più freddo, siamo un po' più nell'inverno, diciamo. Poi, questa si è ripresa Giorgia, nera ovviamente, perché adesso è fissa con un nero, vedrete poi, e con il logo di TikTok, più o meno, e la scritta TikTok, questa qui era in saldo, ah, quella di Maurizio, che appunto vi si è staccato il cartellino, è 5,95 euro, sconto del 50%, era 11,90 euro, e invece questa qui di TikTok, era in offerta a 8,33 euro, sconto del 30%, e stava a 11,90 euro. Poi, qui cosa abbiamo? Questa qui, sempre per Gabriele, se l'è scelta lui, 4,45 euro, sconto del 50%, stava a 8,90 euro, con scritto No Futur, tutta nera, con le righe bianche sopra e sotto, e la scritta bianca su sfondo rosso, molto molto carina, semplice da portare magari a ginnastica, o comunque così, adesso finché il tempo regge. Poi, questa è la maglia che mi sono presa io, è molto larga, comoda, in offerta 5,95 euro, sconto del 50%, costava 11,90 euro, e una, mi sembra che era una doppia XL, con scritto Maya Gioia, e niente, me la sono presa così, non credo da abbinare sopra quei pantaloni, però da mettere sopra i leggings, così, vabbè. Poi, questa maglietta, per Maurizio, l'ho scelta io, mi sembra, con un fulmine, stava in offerta 7,45 euro, sconto del 50%, prima costava 14,90 euro, molto semplice, bianca, ha un fulmine nero qui, sulla manica bianca, e invece un, e una banda nera dall'altra parte, nella cucitura, e poi invece uno sfondo nero con fulmine bianco davanti, molto semplice così, tanto è giusto proprio per ottenere una maglietta bianca, e basta. Poi, questa, Manuel, questa te la sei presa tu? O è di Gabi? No, questa qui me la sono presa io. Ok, questa se l'è presa Manuel, vedrete poi qui la maglietta come è indossata, in offerta 6,45 euro, sconto del 50%, quindi prima costava 12,90 euro, è nera, con queste due strisce, diciamo, leopardate, e in mezzo è una striscia bianca, molto carina, anche questa semplice in realtà, niente di che, è proprio giusto per avere una maglietta. Poi, questa se l'è presa Gabriele, invece, sono sicura perché c'ero quando la scelta, ha preso una S, anche questa è in offerta, 6,45 euro, sconto 50%, prima costava 12,90 euro, con la scritta WIT SMIT, gialla, su due striscioni neri, la maglietta in sé è bianca, come vedete, molto carina, anche queste, come vi dicevo, semplici, niente di cose super eclatanti, e questa, Manuel? Questa, sempre per Maurizio, ha una scritta così in rilievo, tutte e due sono in rilievo, questa sul bianco, quella sul nero, sopra, qua nero, sotto bianco, con questo coso che non so cosa sia, e era in offerta 4,45 euro, sempre sconto del 50%, prima stava 8,90 euro, anche questa qua, come vedete, semplice, anche la manica è metà, diciamo, nera, metà bianca, molto molto carina, e niente, appunto, così, anche Maurizio, qualche maglietta, che sono quelle che scarseggiano di più. Adesso, siccome prima mi sono dimenticata, e poi adesso, mentre vi facevo vedere la roba, mi sono accorta che mancava qualcosa, mancavano le scarpe che si è scelto Manuel, che adesso ci porge, così ve le faccio vedere. Grazie, figliuolo! Abbiamo finito, un attimo. Allora, le scarpe che si è scelto Manuel sono queste, queste qui, sono bianche, con questa parte lucida nera, dentro sono nere, ha preso un 43, sotto la suola è così, sull'azzurro e bianco, erano in offerta 13,95 euro, sconto del 30%, prima stavano a 19,90 euro. Se le scelte lui, ho dovuto un po' spingerlo, perché lui guardava altri tipi di scarpe, invece poi, quando ha visto queste qua, gli sono piaciuti, e niente, quindi questi sono tutti gli acquisti che abbiamo fatto di vestiti per la scuola, un po' per tutti, mancano ancora delle scarpe per Gabriele, perché qui non le abbiamo trovate, e due o tre completini per pia, e le scarpe per pia, quindi ci sarà sicuramente una seconda parte, poi magari chi lo sa, se si trovano delle magliette carine scontate, magari prendo qualcosa ancora anche a loro, quindi questa prima parte finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti, se vi sono piaciuti i vestiti che abbiamo preso, le scarpe, cosa ne pensate, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!